Costante successo in questi vent'anni ci ha portati a lavorare per i clienti come Siemens, Electric 80, Lithos, i quali ci hanno coinvolti nei progetti eseguiti con successo presso Nestlé, Coca-Cola, Lego, Barilla e tanti altri. La capacità di lavorare con il GIMC gruppo è circa due decenze attraverso il lavoro di lavorare con i costruzioni costruzioni. L'utilizazione di tecnologiche, materiale e tecnologiche processi, di monitorazione e di sicurezza nel processo di servizio di servizio. In la prima volta abbiamo, per l'interno di nostro training centro, in la scuola di nostri servizio. Il nostro lavoro è il nostro mercato, con i nostri tanti ai nostri spazieti in Nordamerica, in Indien e in l'indica. In cui investiamo ständig in Raum e Maschinen, dobbiamo i nostri servizi, ai nostri servizi di servizio e servizio di servizio, a presto. e lavoriamo con i standardi 383.4 e 1090 in classi EXC3. Un' parte della nostra gruppazione è l'elettro-meccanico department, che si tratta con tutti i tipi dell'elettrico, meccanico e mechatronico. Bisogna ora abbiamo lavorato su tutti i continenti, per i diversi clienti. Per queste installazioni, abbiamo dovuto ottenere tutte le richieste riguardo le tecniche e le progetti di clienti e da ogni regione dove abbiamo lavorato. come si tratta con i nostri clienti. Come si tratta con i nostri clienti? Il concetto di concentrare, insegnare e educazione permettono il crescente e sviluppo di tutti i servizi. Per fare un lavoro allo mondo necessita molto attrazione, ma anche per le nuove lingue e le nuove culture, che è molto divertente. La stagione sono i nostri amici.